Cari spettatori, è il momento di riallacciare i fili, di questa saga avvincente, e se vi siete persi qualche tappa del nostro emozionante viaggio, ecco un rapido riassunto di quanto è accaduto nel capitolo precedente. Nel nostro ultimo episodio, Cruz ha fatto una scoperta straordinaria, che ha scosso le fondamenta della sua vita, una nota scritta da suo figlio Manuel. Questo piccolo pezzo di carta, all'apparenza insignificante, si è rivelato il ponte emotivo, attraverso il quale Manuel ha cercato di comunicare le ragioni, dietro la sua decisione così radicale di fuggire con Ana. La nota ha funzionato come un confessionario, svelando pensieri profondi e sentimenti nascosti. Le parole sincere di Manuel hanno lasciato un vuoto doloroso, e la sua scelta di non indicare la destinazione ha aggiunto un'ulteriore aura di mistero. Cruz si trova ora a navigare in un mare di incertezze, con domande senza risposta e un'ansia costante, riguardo al destino di suo figlio Viana. Nel frattempo, sul fronte della vendetta, Jimena, venuta a conoscenza della fuga, è pronta a un confronto amaro, alimentato dalla rabbia e dall'umiliazione. E ora, cari spettatori, senza ulteriori indugi, ci prepariamo a immergerci nel capitolo di oggi, il 233. Scopriremo insieme le conseguenze di questa fuga, svelando nuovi dettagli intricati e portando alla luce ulteriori sviluppi emozionanti. L'incertezza raggiungerà nuove vette, mentre Cruz cerca risposte e Jimena affila le lame della vendetta. Preparatevi per nuovi colpi di scena, segreti rivelati e emozioni intense. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere nemmeno un istante di questa appassionante saga. Lasciate un like se siete pronti a immergervi nelle complesse dinamiche familiari e commentate con le vostre teorie e impressioni sotto al video. La vostra partecipazione rende questo viaggio ancora più speciale. E ora, senza ulteriori indugi, passiamo al capitolo di oggi, il 233. Tenetevi pronti per un nuovo entusiasmante capitolo della nostra avvincente storia familiare. Iscrivetevi al nostro canale, per non perdere neanche un istante, di questa saga appassionante. Hai mai immaginato, cosa potrebbe accadere, quando una proposta di addio cambia irrimediabilmente il corso degli eventi? Scopriamolo insieme in questo emozionante episodio. Nel nostro nuovo video, esploreremo le intricanti dinamiche familiari, dove una proposta di addio porterà a sconvolgenti cambiamenti nella vita dei protagonisti. Intrighi, segreti e colpi di scena vi aspettano. Imena, con sorpresa generale, ha deciso di rimanere nel palazzo e ha tagliato ogni legame con sua madre, sebbene il desiderio di andarsene la pervada. Tuttavia, la sua determinazione a partire è condizionata dalla presenza di Manuel. La duchessa è furiosa, per l'inatteso ribaltamento di sua figlia e ha minacciato i suoceri, Cruz e Alonso, di gravi conseguenze, nel caso in cui venisse a sapere che Gimena viene maltrattata. La marchesa, dal canto suo ha assicurato personalmente di consolidare il matrimonio e di smussarne gli angoli. Cruz ha garantito che dona Mercedes, non avrà il potere di diffamare i nomi di Luian, e Catalina quando scoprirà che Gimena non ha tradito la promessa di mettere in guardia sua madre riguardo al suo potere manipolatorio. Cosa c'è l'appelaio? Quale è il suo grande segreto? Ho invinto che ironimo, il fornitore delle armi, stia segretamente collaborando per l'azienda delle marmellate, dietro una facciata di uomo benigno. Manuel e Iana si ritrovano nell'hunger. Nel viaggio da sogno in Galizia, protagonista degli ultimi episodi della fiction televisiva, la cameriera e l'eredero si mostrano più innamorati che mai. Tuttavia, quando stanno per baciarsi, compare improvvisamente la marchesa. Mauro, preoccupato per la salute di Romulo, rivela a Pia di aver trovato due fazzoletti macchiati di sangue. Dona Pia si preoccupa per il maggior domo, e chiede a Romulo di dirle tutta la verità sul fatto. Fazzoletti, pieni di sangue, Romulo, molto testardo, si rifiuta di farlo. Non riuscendo a ottenere la verità dal maggior domo, Lope tenta di avvicinarsi a lui, per scoprire la verità, senza successo. Mentre Romulo informa che il marchese rifiuta di farlo di tornare alle cucine, nonostante i suoi sforzi, Iana riceve l'incarico, di prendersi cura di Maria Fernandez prima della partenza di Lope. Nel frattempo, Simona è terrorizzata all'idea dell'arrivo imminente del figlio, una situazione che la opprime poi che a quel punto tutti scopriranno la sua verità, che si è costruita nel tempo. La signorina Martina, altamente disturbata, è in uno stato di allerta massima a causa dei continui interrogativi su una gravidanza inesistente. Manifestando nausea e vertigini, la signora si rivolge ad Abel, sperando di scoprire l'origine dei suoi disturbi. La conclusione a cui giunge il medico non sarà gradita affatto alla signorina Cruz, la quale è più che arrabbiata con la cognata. Nel frattempo, la marchesa cerca di mediare tra suo figlio e sua moglie, cercando di preservare l'equilibrio familiare senza interferire nuovamente negli affari. Jimena, è ancora molto tesa pensando che Manuel le stia nascondendo la vera natura del suo viaggio. Perciò, si avvicina a Maria Fernandez e Teresa per cercare di dissipare le sue preoccupazioni. Nel mentre, Manuel continua a vivere nella sua particolare nuvola d'amore, della quale la cameriera non è a conoscenza. Nel frattempo, il fratello di Jimena, nel suo desiderio di avvicinarsi ad Alonso, prende una decisione che provocherà l'ira del marchese. Il tempo stringe per Lope, che si rende conto che i giorni della promessa stanno giungendo al termine. Quello che il ragazzo non si aspetta è che Romulo si presenti con la proposta di un grande addio, la partenza della che non prevede ritorno. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere neanche un istante di questa saga appassionante. Prima di scoprire il resto della soppe e se avete apprezzato questo viaggio attraverso le complesse dinamiche familiari. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi capitoli. Lasciate un like se siete coinvolti emotivamente e condividete le vostre teorie nei commenti sotto al video. Il disagio di Martina persiste nel capitolo 233 della promessa. Margarita interviene per scoprire l'origine dei disturbi di Martina, ma la conclusione del medico non soddisfa la signorina Cruz, che è sempre più irritata con la cognata. Nel frattempo, la Marchesa cerca di mediare tra suo figlio e sua moglie, cercando di non interferire nuovamente negli affari familiari. La conclusione cui il medico giunge non troverà favore agli occhi della signorina Cruz, che è più che arrabbiata con la cognata. La Marchesa cerca di mediare tra suo figlio e sua moglie senza poter interferire nuovamente negli affari. Jimena è ancora molto tesa, convinta che Manuel le stia nascondendo la vera natura del suo viaggio. Perciò, Jimena si avvicina a Maria Fernandez e Teresa cercando di risolvere le sue preoccupazioni. Nel frattempo, Manuel prosegue nel suo mondo d'amore particolare, all'insaputa della cameriera. Suo fratello, nel tentativo di avvicinarsi ad Alonso, prende una decisione che scatena la rabbia del Marchese. Il tempo stringe per Lope, che comincia a rendersi conto che i giorni della promessa stanno giungendo alla fine. Quello che il ragazzo non si aspetta è la sorprendente proposta di Romolo, un addio definitivo, la partenza della che è senza possibilità di ritorno. La vostra partecipazione rende questa esperienza ancora più speciale. Iscrivetevi, lasciate un like e commentate ora per far parte della nostra crescente community.